Domani si riunirà in seconda convocazione il Consiglio Comunale a Campobasso. Intanto però sono diversi mal di pancia all'interno dell'amministrazione Battista. Vediamo. Ancora una seduta a vuoto senza numero legale per l'assenza di numerosi consiglieri quella del Consiglio Comunale di Campobasso. In agenda l'approvazione del bilancio consolidato che la legge impone l'approvazione entro il 30 settembre. Se ne riparlerà domani in seconda convocazione quando saranno sufficienti pochi consiglieri per l'approvazione. In molti sostengono che ci sia uno strisciante malessere all'interno della stessa maggioranza contro lo strapotere del Direttore Generale Antonio Iacobucci che sovrintende a tutte le manovre di bilancio del Comune. Insoddisfazione manifestata anche da qualche assessore in occasione dell'approvazione del documento unico di programmazione. In pratica lo strumento programmatico non avrebbe visto il collegiale apporto degli stessi assessori. Non da meno all'interno del gruppo dei consiglieri di maggioranza il malessere riguarderebbe lo stesso Direttore Generale Iacobucci proprio per un decisionismo sulla programmazione comunale che andrebbe di fatto a detrimento dell'attività politica. Il malessere politico che così serpeggia all'interno della maggioranza consigliare sfocia nell'assenza in prima convocazione del Consiglio Comunale proprio su argomenti e questioni che attengono la programmazione e i bilanci. Il dito è puntato proprio contro il Direttore Generale che sarebbe diventato il vero e unico organo politico e programmatico del Comune di Campobasso. E' chiaro ed evidente così che ad essere esautorato è proprio il Consiglio Comunale che al contrario dovrebbe sovrintendere alla programmazione. I risultati purtroppo si vedono in città e sono sotto gli occhi di tutti.